Adam Smith, direttore di Group M Future, ha presentato una interessante attesa ricerca su quello che sa il futuro della comunicazione mondiale. Uno dei trend che emergono è sicuramente quello di un mercato che va a vie diverse con il Far East che è sicuramente leader nella crescita del mercato e l'Europa che invece segna il passo e all'interno dell'Europa soprattutto l'Italia è il fanellino di coda. Per capire cosa sta succedendo rivolgiamo appunto a Smith qualche domanda sul sistema. È sicuramente che l'Europa o Europa è la regione più crescita nel mondo, ma non è molto bene l'Europa, che è looking a un risultato di circa 4%. L'Europa è circa 3%. Per reasons che sono abbastanza ovviamente, both questi blocchi di economia sono costruita di high levels di indebtedness, both pubblico e privato. E questo ha un grande impacte sui consumi confidanti. E anche per le nostre corporazioni, l'economia è buona, e la liquidità è buona. E' sembra che questo non è sufficiente per l'advertimento di crescita più veloce che la economia generale, che è quello che normalmente succederà in un ciclo di recuperazione. Quindi credo che sia l'indettedness e le constrazioni sui consumi in Nord America e in Europa che sono quello che prendono queste regioni. Quali sono i driver principali per la ripresa del mercato pubblicitario? Ci sono due principali. Se guardate in termini di individuali media, la televisione è molto importante in il mondo sviluppo, in il mondo sviluppo più veloce, perché qui abbiamo tipicamente abbastanza di prezzi che hanno bisogno di ottenere molto rapidi markete penetrazioni e l'awareness. E la televisione è provata a fare questo. quindi la televisione ha bisogno di ottenere quindi questo è provato circa una parte della crescita che vi aspettate globale. E la parte della parte è provata da crescita in l'internet, che significa paid search e l'online display. E mobile e social falle sotto questa categoria, too. Questo è principale un fenomeno europeo per la reason che l'utilizzo dell'internet e la riuscita a usare come un modo di transaczione è molto più grande. Quello che ho appena detto lascia un po' meravigliati gli operatori del mercato che davano quasi per morte alla televisione. Invece non è così. Stiamo assistendo invece a un recupero di centralità del ruolo della televisione nell'interno delle pianificazioni. Sì, non è una sorpresa che la televisione continua a essere forte perché we know che video advertising è particolare impattato e memorizzare e TV advertising è molto più in ogni relative scale. So whether TV è free o whether è paid for non importa. What importa è se si chiama persone e se si sono se si sono si è se si può avere access a quella audience in una sensibilità a sensibilità e e we can. There is a second point which is applies really to the more highly developed markets which is the interrelationship between online and TV which is a great symbiosis the relationship between television branding and online footfall or traffic is very interesting and it's quite a close statistical relationship so I think the two media will advance together. Bene con queste considerazioni di Adam Smith per ADV Express è tutto Salvatore Sagone